E di emergenza migranti ha parlato la sottosegretaria all'interno Vanda Ferro alla Mezzia Terme a margine della festa per i 171 anni della Polizia di Stato. Il servizio è di Michele Carlino. Dopo la dichiarazione dello Stato d'emergenza nazionale per la gestione degli sbarchi di migranti sul decreto cutro all'esame del Senato si profila una pioggia di emendamenti delle opposizioni. Il testo definitivo del Governo è atteso a breve. Intanto è prevista per domani la missione in Calabria del prefetto Valenti capo dipartimento e immigrazione del Ministero dell'Interno che dovrebbe visitare le strutture regionali a partire da Crotone. Delle misure decise dal Governo ha parlato alla Mezzia Terme la sottosegretaria all'interno Vanda Ferro a margine delle celebrazioni per il 171esimo anniversario della Polizia di Stato. Bisogna porre delle regole per dei flussi regolari e sicuri perché bisogna in qualche modo mettere degli strumenti che hanno visto ieri il Consiglio dei Ministri dichiarare l'emergenza nazionale rispetto a un tema che dovrebbe dare semplificazione non soltanto nell'accoglienza come strumenti e quindi la possibilità di una vera accoglienza quella che non si ferma alla banchina di un porto ma soprattutto anche la possibilità di rimpatri. Crisi migratoria al centro dei festeggiamenti della Polizia anche a Reggio Calabria dove il questore Bruno Megale ha parlato di indrangheta e migranti come di due delle principali emergenze sul territorio provinciale. A Cosenza, infine, l'anniversario della Polizia è stata l'occasione per il questore Michele Maria Spina di esporre una strategia per l'affermazione della legalità che coinvolga la società civile puntando alla riconquista degli spazi occupati dalla malavita da restituire all'aria pulita e alla luce.